Devo chiedere anche a te un commento a caldo, non posso esimermi divertito. Molto, bellissimo, maneggevolezza anche a pilotarlo e finché non lo provi non tenerei di conto. Dicevo è bravissimo, è bravissimo, poi come se metterai fai no, gioco sempre fra le simbolette. Abbiamo capito, è un attivo avvantaggiato. Ok, grazie, grazie a te, ciao. Ciao, a dopo.